Si è svolto con grande partecipazione e interesse il seminario L'Uso Intelligente delle Nuove Tecnologie organizzato dal Centro Studi Giuridici Zaleuco di Locri in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Monasterace, Riace, Stilo e Bivongi. L'evento, tenutosi presso il Centro di Aggregazione Giovanile Rocco Lombardo di Monasterace Marina, ha coinvolto le classi terze della scuola secondaria di primo grado di tutto il comprensivo con una significativa presenza delle famiglie. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione educativa mirata a sensibilizzare i giovani sull'uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali. In un'epoca in cui il digitale pervade per l'appunto ogni aspetto della vita quotidiana, il seminario ha offerto strumenti pratici e conoscenze fondamentali per navigare in sicurezza e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mondo virtuale. Esperti del settore hanno illustrato tematiche di grande attualità, quelli la sicurezza online, il cyberbullismo e la protezione della privacy. Gli interventi hanno sottolineato l'importanza di un approccio critico e responsabile all'uso delle tecnologie, fornendo suggerimenti pratici per affrontare le sfide digitali in modo consapevole. Continua la serie di incontri organizzati dal Centro Studi Giuridici Zaleuco di Locri e unitamente alle scuole per portare avanti e sollecitare un tema sempre purtroppo attuale per aiutare i ragazzi, in questo caso delle scuole medie, a sensibilizzarli verso questo tema sempre attuale. Siamo qui per sensibilizzare i giovani all'uso corretto delle tecnologie. Un uso improprio di Internet e dei vari dispositivi può generare diverse conseguenze negative. Una la più diffusa è la dipendenza da Internet. In Italia 300.000 giovani tra i 12 e i 25 anni soffrono di questo disturbo, con delle conseguenze chiaramente negative sulla qualità della loro vita, perché vanno a discapito le relazioni reali, lo studio, lo sport e le altre attività. Bisogna parlarne soprattutto con i ragazzi, con i giovani, perché negli ultimi anni le tecnologie l'hanno fatta da padrone, sono entrate in maniera preponderante nelle nostre vite e soprattutto appunto nel mondo scolastico. Ora l'utilizzo delle tecnologie a scuola è immediato, è orientato dal docente e quindi se ne fa a scuola un uso veramente consapevole ed intelligente.